Il culturista professionista Steve Michalik è stato Mr. USA, Mr. America e Mr. Universo. È stato anche un assiduo utilizzatore di steroidi. Michalik inizia a far uso di steroidi nel 1975 per prepararsi al concorso di Mr. Universo. Continua a usarli per dieci anni. Crede tuttora che gli steroidi gli abbiano fatto un dono senza prezzo. I vertici del bodybuilding. Ne ho usati a tonnellate. Ma dopo una salita c'è sempre una discesa inevitabile. Alla fine sono finito in ospedale. Avevo due tumori grossi come pompegni al fegato. Michalik conferma la convinzione degli scienziati. A breve termine gli steroidi possono scolpire il fisico. Ma nel tempo esigono un prezzo. Dall'esterno un utilizzatore di steroidi può sembrare più muscoloso e virile. Ma all'interno per i medici può succedere questo. Un tipo di steroidi orali è stato collegato ai tumori al fegato. C'è chi ha contratto una malattia rara chiamata peliosi epatica. Si formano sul fegato delle cisti piene di sangue che possono perforarsi provocando un'emorragia interna. Alcuni studi rivelano anche la formazione di tumori ai reni con conseguente insufficienza. Man mano che l'organismo perde la capacità di filtrare il sangue, le tossine aumentano provocando ritenzione idrica, un incremento della pressione sanguigna e infine un collasso renale. Ma ancora più allarmante è l'effetto degli steroidi sul cuore. Gli steroidi possono alterare drasticamente i livelli di colesterolo, causando un rischio maggiore di infarto o di ictus. Un catalogo di malattie letali. Steve Michalik le ha avute tutte. Tumori al fegato, pancreatite, disturbi della cistifellea, un attacco cardiaco, un ictus e l'elenco continua. Tutti i miei organi sono crollati uno dopo l'altro, pezzo dopo pezzo. E tutte le mie arterie erano ostruite, non passava sangue attraverso le sette arterie del cuore. Il chirurgo che mi ha operato ha detto di aver visto più sangue in un morto che in me. Steve non è solo. Sopporta il dolore! Allontana la vergogna, andiamo! Nel mio gruppo di culturisti campioni degli anni 70 e 80 c'è chi ha un bypass, chi una valvola cardiaca artificiale, chi problemi di fegato o di reni, chi è morto d'infarto. È accaduto di tutto. Nessuno di noi ha mai fumato né bevuto. La nostra alimentazione era impeccabile. Ci allenavamo con esercizi aerobici cardiovascolari. Seguivamo qualunque regola naturale per mantenerci vivi e sani. Unica eccezione? Gli steroidi. Quella era la differenza. Quella era la variabile, l'unica comune a tutti noi. Ma se Michalik biasima gli steroidi, la scienza ha delle riserve. Negli ultimi 70 anni di utilizzo di questi farmaci in medicina non è stata condotta nessuna ricerca che ne abbia valutato gli effetti a lungo termine. Su questo argomento circolano soprattutto casistiche o aneddoti stile quella persona ha fatto uso di steroidi e ha avuto un cancro al fegato o un tumore ai reni. Dal punto di vista metodologico non c'è nulla di peggio. Non si può dimostrare un rapporto causa-effetto. Non è possibile. Dimostrare un rapporto di causa-effetto è ulteriormente complicato dalla frequente combinazione di steroidi con altre droghe, tra cui gli ormoni della crescita, l'insulina, gli ormoni della tiroide e le anfetamine. Per gli scienziati, illustrare i rischi degli steroidi è stato difficile. Le prove possono esserci, ma sono controverse. Da un lato, ci sono centinaia di migliaia di persone che hanno usato questi farmaci e non sembrano averne risentito particolarmente. Dall'altro, ogni tanti mesi si sentono storie di culturisti o atleti del passato morti improvvisamente in circostanze misteriose. Il wrestler professionista Brian Pillman è morto di infarto a 35 anni. Il wrestler Eddie Guerrero è morto per una cardiopatia a 38 anni. E David Boy Smith è morto a 39 anni. Tre decessi negli ultimi 10 anni. Tutti per problemi cardiaci e tutti con un sospetto comune. Per anni, i medici hanno sospettato un legame tra gli steroidi e le malattie cardiache. Gli steroidi abbassano il livello del colesterolo HDL nel sangue. Noto anche come colesterolo buono, secondo i medici, l'HDL protegge l'apparato cardiovascolare dalle cardiopatie. Anche se chi usa steroidi può apparire perfettamente sano, dall'interno il loro organismo può raccontare una storia diversa. Gli steroidi possono aumentare invece drasticamente il colesterolo cattivo o LDL, provocando indurimento delle arterie e un significativo accumulo di placche lungo le pareti arteriose. Quando le placche ostruiscono un'arteria, il flusso sanguigno è limitato. Questo fenomeno, incontrollato, può provocare un attacco cardiaco. Allo stesso modo, se una placca si stacca, può bloccarsi in un vaso sanguigno più piccolo, provocando un attacco cardiaco o un ictus. Basta fare uso di steroidi per pochi anni, per danneggiare il proprio organismo. La prova è Danny McDermott. A 53 anni, fa il consulente finanziario, ma Danny è un ex campione di bodybuilding. Quando gareggiavo e aspiravo a raggiungere il successo a livello nazionale e internazionale, ero certo che i miei rivali usassero steroidi. E li usava anche Danny. A 36 anni, sette anni dopo aver abbandonato steroidi e bodybuilding, subisce un brutto colpo. Il dottore disse, hai avuto un infarto massivo e sei fortunato ad essere vivo. Danny ora è sotto cura dal dottor Larry Santora, direttore di tomografia computerizzata cardiaca dell'Istituto di Cardiologia di Orange County in California. Ci sono tre arterie principali, una davanti, una a destra che rifornisce la parte inferiore del cuore e una dietro il cuore. Hai l'arteriosclerosi o placche, ognuna di esse, ruota. Nell'autunno del 2006, Santora pubblica il primo studio osservazionale su steroidi e malattie cardiache. È anche il primo studio a usare uno scanner TC con fascio di elettroni per valutare la quantità di placche accumulate negli utilizzatori di steroidi. C'è un indumento delle arterie. Santora analizza 14 culturisti tra i 35 e i 55 anni che hanno usato steroidi per una media di 12 anni. Un numero significativo di individui presentava una grande quantità di placche già intorno ai 30 anni. Placche che di solito si riscontrano nei 70 anni o 80 anni. Sembravano in forma, robusti, ben sviluppati. In fondo sono culturisti professionisti, ma le arterie erano pericolosamente calcificate, indurite. Si trattava dell'indurimento prematuro delle arterie che si spiega solo con l'assunzione degli steroidi. In tutte e tre le arterie maggiori hai arteriosclerosi o placche. Per arrivare a questo livello un atleta professionista deve farne uso per parecchi anni. È allora che si cominciano a vedere gli effetti. Questi uomini li hanno usati per 10, 12 anni, 15 anni e moriranno all'improvviso. Vedremo persone che invece di morire a 70 o 80 anni moriranno a 40, 50, forse anche 35 anni. Sono stato fortunato ad arrivare vivo fino ad oggi, ma non credo che lo rifarei. Sapendo quello che so oggi, non lo rifarei. Ma Santora non può dimostrare che i suoi timori sono fondati. Il suo gruppo di studio è troppo ristretto per tirare ampie conclusioni. Il problema delle droghe illecite in generale e degli steroidi in particolare è che non possono essere oggetto di uno studio in laboratorio. Non si possono somministrare a qualcuno degli steroidi per 20 anni per studiarne gli effetti. Il Comitato per la ricerca sperimentale sugli esseri umani non lo permetterebbe. Quindi, per motivi etici, l'unico modo per studiare questi fenomeni è osservare e scoprire ciò che accade in natura. Ma in questo tipo di ricerca una serie di limiti metodologici impedisce di ottenere risultati convincenti e validi senza il rischio di distorsioni. Mentre i medici cercano delle risposte, alcuni utilizzatori di steroidi ignorano i segnali di pericolo. Alcuni medici incolpano la loro stessa professione. È dovuto passare moltissimo tempo prima che la comunità medica ammettesse che gli steroidi effettivamente funzionano. Ancora oggi, ad esempio, viene dichiarato nel Physician Desk Reference che gli steroidi non hanno l'effetto di migliorare le prestazioni atletiche. Avendo fallito da questo punto di vista i medici non è stato dato credito quando hanno esposto i potenziali pericoli degli steroidi perché avevano perso credibilità. Con la perdita di credibilità dei medici è aumentato l'uso. Oggi gli steroidi si trovano ovunque e in ogni sport. Faranno sempre parte del powerlifting, del culturismo e di quel genere di sport. Ora si sono diffusi anche nella Major League del Baseball e in altri sport professionistici. Nel 2005, alcuni dei più importanti giocatori di baseball parlano al Congresso americano dell'uso degli steroidi negli sport professionistici. Nel suo libro e durante la sua testimonianza Canseco parla dell'uso dilagante degli steroidi nel baseball. Da allora sono caduti altri eroi. Nel 2007 il baseball americano subisce un duro colpo. Sono coinvolti in un'ampia indagine più di 80 giocatori di tutte le squadre americane inclusi due dei migliori Barry Bonds e Roger Clemens. Entrambi respingono le accuse. Il minimo vantaggio sui rivali procura a un atleta milioni di dollari e record mondiali. Attualmente gli steroidi stanno invadendo campi in cui la posta è bassa ma i rischi restano anche. Faranno sempre parte del powerlifting del culturismo e di quel genere di sport ma secondo me non dovrebbero essere usati nel baseball nel calcio in quegli sport che i ragazzi cominciano a praticare nel cortile di casa. Prendere steroidi è la cosa più dannosa che un adolescente possa fare. Ma lo fanno e Taylor Houghton è uno di loro. Uno, due, tre vai! Taylor era un ragazzo meraviglioso aveva sempre il sorriso la battuta pronta era molto amato a scuola ed era considerato bello le ragazze lo cercavano continuamente a scuola aveva degli ottimi voti la media del nove aveva ottenuto un punteggio fantastico ai test per la missione alle università che stavamo per andare a visitare. Taylor Houghton è un normale atleta sedicenne delle scuole superiori fino al febbraio 2003 è allora che decide di fare il provino per la squadra di baseball dell'università in meno di tre mesi prende 14 chili inizia a soffrire di acne gli si gonfia il viso e gli viene l'alito cattivo tutti effetti collaterali degli steroidi secondo il centro per la prevenzione e il controllo delle malattie tra i 700 e gli 850.000 adolescenti hanno usato steroidi uno su 20 basta leggere il libro di Jose Canseco il messaggio che trasmette è che almeno secondo lui gli steroidi erano una panacea per raggiungere il successo guadagnare milioni di dollari apparire in tv ogni sera stabilire primati avere tante donne intorno tutto questo non può nuocere gli atleti professionisti che hanno scelto di usare steroidi hanno conosciuto pochi dei lati negativi secondo gli esperti pochi adolescenti capiscono i pericoli che il crescente mercato degli steroidi nasconde oggi gli steroidi possono essere acquistati facilmente online da laboratori in Messico Thailandia e India abbiamo sentito storie di fiale riempite di olio di semi di lino e addirittura di fiale che contengono olio per motori e i nostri ragazzi se le iniettano nelle vene poco dopo che Taylor inizia ad assumere steroidi la sua personalità cambia ciò che abbiamo notato in Taylor era decisamente più grave dei normali sbalzi di umore in due occasioni ha attraversato una parete di cartongesso con la mano che usava per lanciare avevamo davanti a noi tutti i segnali di pericolo tutti gli indizi che ci servivano ma non li abbiamo associati agli steroidi perché né noi né il nostro medico di famiglia sapevamo che cosa cercare quando smette di fare uso di steroidi Taylor scivola in una depressione profonda la mattina del 15 luglio 2003 entra in camera sua si infila una cintura intorno al collo e si impicca cosa del genere non dovrebbero accadere alla gente comune e istruita ma il fatto è che continua a succedere ancora oggi a Taylor gli steroidi impongono un prezzo sproporzionato rispetto all'obiettivo non aspira a un contratto nella Major League o a un salario a sette cifre vuole ciò che desidera ogni adolescente a parte nera dopo la morte di Taylor molti dei suoi compagni di squadra hanno ammesso con me e con mia moglie di avere usato steroidi e per un periodo molti di loro sono stati terrorizzati ma nel tempo si è verificato qualcosa di veramente spaventoso alcuni di quei ragazzi hanno ripreso a usare anabolizzanti poche settimane dopo il funerale di Taylor la tentazione degli steroidi supera la paura dei rischi ma cosa può indurre un adolescente sano a togliersi la vita la risposta si trova nel profondo del cervello quando si assumono steroidi l'ipotalamo nel cervello li vede arrivare dall'esterno e invia un messaggio ai testicoli per comunicare che è già presente un'enorme quantità di steroidi e chiedere di non produrne altri sono sufficienti sopraffatti i testicoli riducono la funzionalità una condizione chiamata ipogonadismo Taylor ha smesso di colpo di usare gli steroidi l'astinenza gli ha lasciato poco testosterone e tanti rischi si cade in una profonda depressione e si hanno addirittura estinti suicidi nel periodo in cui il livello di testosterone è così basso prima che i testicoli riprendano a funzionare durante uno studio su adulti dipendenti dagli steroidi il 4% tenta il suicidio quando è in astinenza la palla del suo home run del 16 giugno 2001 è importante perché è stato il suo primo e ultimo home run allo stesso tempo io l'ho cercata fra le erbacce dopo che l'ha colpita come farebbe ogni padre dopo che il figlio ha battuto il suo primo home run Don Houghton ora dirige una fondazione a nome di Taylor per proteggere altri adolescenti dagli steroidi nel 2007 il Texas approva la legge Taylor il più grande programma di screening della nazione per atleti delle scuole superiori ma molto